L'avventura di Violetta Ricorda cosa ha detto mamma, restate nascosti Certo, come no? Premi ti hai premuto per diventare invisibile Oh no, ho già capito cos'è la sua missione Attenzione Tutto il suo percorso sarà Ti prego dimmi che non è così Ok, si ricarica per fortuna Non vedo Porca miseria Fanculo Non si vede, telecamera di merda Ok, ecco fatto Devo restare nascosta È tutta una roba stelta la sua roba Devo andare di là Ci vediamo? Brutte notizie Ok, quindi passare in mezzo all'erba fa rumore e ti vedono Perfetto, quindi bisogna evitare anche l'erba Ottimo da sapere Ok, facciamola con un attimo di calma questa parte Senza rasciare troppo Ok, sta tornando indietro Ok, sta tornando indietro Andiamo piano, evitiamo l'erba Appena gira l'angolo Avanziamo Ci vediamo Ecco fatto, perfetto Prendiamolo Grazie Allora, il tizio adesso è girato da quella parte Ah, ma qua Uh, ok Qua era solo per prendere il collezionabile Niente più, niente meno Quindi direi D'accordo Sta calma Preso Ah, vabbè Non importa Abbiamo preso il collezionabile Chi se ne frega Allora Torniamo di nuovo qua Evitiamo il tizio Aspettiamo che torna indietro D'accordo Sta calma Perfetto E ora Andiamo da questa parte Il tizio qua Ok, fa il giro da questa parte Superato Perfetto Ok Vediamo qui Chi c'è Così non va bene Ok, questi due tizi Mi sa che Non si muovono Forse Ok, da questa parte posso passare Perfetto Sì Cos'è sto fiatone Una roba di famiglia Lì ce n'è uno Non si muove questo Mi sa tanto che qua Devo usare l'invisibilità Proviamo Ok, ha funzionato Ha funzionato meglio di quanto pensassi Si torna all'azione Ok, anche questi sono tre in gruppo Su Muovetevi Può essere che si è buggato il gioco Perché Non si muove più nessuno Guarda Non mi sorprenderebbe neanche Ok Questi tre sono Abbastanza fastidiosi Proviamo Aspetta Aspetta Ok Tre, due, uno Ok Perfetto Evitato E punto di controllo Non mi hanno visto Ottimo Andiamo da questa parte Devo restare nascosta Uh, tizio col mitra che sta arrivando Uh, oggetto Fantastico Grazie Addio Allora, qua forse possiamo Sgattaiolare Di lato Aspettiamo che la barra si carichi del tutto Aspettiamo che il tizio si gira Io me ne vado Perf... Oh, 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 calmo Così non va bene Ok Due tizi che vanno in sincro Allora, facciamo ricaricare un attimo la barra Ancora un po' Per favore Dai, perfetto È piena Vai Oh, no Ci vediamo Evitati Yes Ok Anche questi sono in due Fanno... Fanno il giro La barra è piena Allora, aspettiamo che questo si gira E gli passiamo accanto Ecco Mi hai vista È una super No, non mi hai vista Forte Io me ne vado No, dannazione Avevo preso adesso l'oggetto Ok, rieccoci qua 3, 2, 1 Vai Mi hai vista In piena vista Io me ne vado Oggetto preso Oggetto preso di nuovo Ok, corri, corri, corri Ok Sì, lo sapevo che era la fine Ok, spero non ci siano altre parti con Violetta Sinceramente Perché è stato veramente terribile No, non ci siano